eccoci ciao a tutti siamo in diretta stiamo aspettando il nostro ospite di oggi e do il benvenuto a tutti quanti i nostri amici di generazioni e questo è il primo appuntamento che facciamo su instagram dedicato a momenti di ispirazione da fuori regione e visto che in questo momento generazioni ha il proprio bando attivo oggi con noi avremo ospite il lago film fest adesso attendiamo che entri qui con me la una delle delle protagoniste del lago film fest che viviamo dovremmo esserci ciao viviana ciao 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 come va tutto bene bene sì nonostante il momento un po' apocalittico infatti dopo magari avremo anche modo di fare una riflessione di questo momento apocalittico di che cosa significa anche per i progettisti e per chi ha anche un progetto culturale importante come il vostro che insomma ha ogni anno un appuntamento un appuntamento per non soltanto per le persone del posto ma che attira tante persone anche da fuori e l'appuntamento di oggi a titolo nuove dimensioni lago film fest il cinema per incontrarsi e sperimentare tu sei la direttrice artistica appunto di lago film fest che è un festival che è nato nel 2005 quest'anno siete la sedicesima edizione e ci troviamo a revine lago che è una bellissima località in riva lago e siamo in veneto e nella zona tra conegliano vittorio veneto giusto così esatto valdo biadene in mezzo a questo triangolo dei posti bellissimi infatti da vedere da girare e appunto voi dal 2005 organizzate un festival di cinema indipendente e vorrei partire con te subito dalla citazione che troviamo sul vostro sito dove vi presentate in questo modo che secondo me è proprio una bellissima presentazione anche anche tua insomma che proprio il cuore di come nasce un'idea di questo tipo in una notte d'estate immagino la gente del mio paese portare fuori le sedie di casa e scendere in cortile o giù fino in riva al lago per vedere qualcosa di nuovo qualcosa che qui non si era mai visto prima un cinema sotto le stelle e questo è del 2005 quindi immagino che sia nell'anno appunto quando è nato tutto esatto esatto lì fu un momento in cui mi chiesero ma no ma cerca di devi mettere nero su bianco quello che vuoi fare cerca di trovare una frase un minimo di racconto per spiegare quello che vuoi fare in quanto io veramente non riuscivo riuscivo a vedere ad immaginare questo momento di incontro questo momento che poi abbiamo chiamato festival ma realmente non riuscivo a formalizzarlo e non sono una gran scrittrice ecco e quella frase di fatti rimasta solo quella poi non ci sono stati più altri miei scritti da allora non è vero però quello insomma diciamo riassume molto bene lo spirito con il quale abbiamo iniziato il festival con il quale continuiamo a farlo insomma quindi con lo spirito molto semplice facile e spontaneo e il festival è proprio un esempio di come il cinema possa farsi strumento no di rigenerazione nel vostro caso non siamo in un contesto urbano ma siamo comunque in un contesto che è fuori ecco diciamo dai circuiti delle grandi città dove quando si parla di rigenerazione urbana si parla di magari andare a come dire a recuperare valorizzare edifici che magari sono dismessi in questo caso invece il cuore del vostro lavoro è proprio andare a lavorare sia con la comunità che appunto con il con tutto quello che è il borgo che rivine lago giusto sì ma in qualche modo forse sì non siamo in una città ma comunque c'è anche qui un insediamento urbano e anche qui c'era molto più di ora una situazione di abbandono quindi in realtà siamo intervenuti in uno spazio che era un po abbandonato un po dimenticato ecco come poi succede no per alcuni versi in un certo senso l'ho anche protetto da speculazioni da interventi magari fatti in anni in cui non si teneva molto conto e ma anche dell'aspetto per esempio architettonico delle dinamiche che si possono creare in questi spazi anche comunque molto molto piccoli e quindi in quindici anni quello che abbiamo fatto adesso il sedicesimo quello che abbiamo fatto era cercare di dialogare con questi spazi che esistevano e le persone che vivevano e interagivano in questo spazio chiamando magari un aiuto esterno quindi artisti e poi lentamente pubblico che veniva ovviamente da fuori e quindi interagiva con questi spazi infatti cos'è che succede solitamente in questi nove giorni di festival ma succedono in realtà moltissime cose nel senso che non è semplicemente un festival di cinema c'è anche il cinema ovviamente perché è uno degli aspetti fondamentali in quanto abbiamo cinque punti diversi di proiezione con le competizioni internazionali nazionali locali la competizione dedicata ai bambini e poi anche proiezioni speciali quindi focus retrospettive oltre all'aspetto diciamo cinematografico che il fulcro sono anche tutte le altre attività che in un in un certo senso ci girano anche attorno ovviamente dialogano anche con il mezzo cinematografico quindi tutto un lavoro dedicato alla danza e quindi al movimento al corpo quindi performance workshop tutto un ambito dedicato invece alle colonne sonore quindi lago original soundtrack progetti per i bambini quindi laboratori durante il pomeriggio magari con registi artisti illustratori che vengono al festival quindi in realtà di attività se ne fanno moltissime dalla mattina alla sera quindi incontri con gli autori al mattino il premio rodolfo sonego che realizza proprio all'interno del festival nei primi giorni il primo appuntamento l'anno scorso per il primo anno abbiamo fatto i Barefoot Industry Days quindi un aspetto dedicato invece ai professionisti al mondo ovviamente professionale del cinema quindi in realtà ci sono moltissime cose e cambiano e si evolvono si trasformano ogni anno diciamo ci sono dei pilastri ovviamente che rimangono sempre quelli ma in base anche a chi entra fa parte del festival il festival si trasforma e diventa qualcos'altro è sempre più ricco immagino no di anno in anno come succede altro diciamo che si arricchisce il network e si arricchisce si arricchiscono le connessioni che si generano quindi è un continuo sommare e arricchire diciamo di incontri di possibili progetti che si realizzano poi successivamente durante l'anno e questi vanno a sommarsi quindi sì ogni anno è sempre più grande anche se magari nelle dimensioni non può sembrare ma in realtà il festival è un po' il punto di partenza il punto di arrivo di progetti che poi si sviluppano durante tutto l'anno magari dopo approfondiamo alcune parti legate al festival soprattutto quella dell'engagement che voi insomma dal punto di vista ad esempio giovanile avete tantissimi giovani che fanno parte che entrano siamo giovani del re infatti brava Viviana mi piace questo approccio però mi piacerebbe sapere anche da te qual è stato anche il tuo percorso invece personale perché vediamo che nei progetti naturalmente è si intreccia tantissimo il proprio percorso tante volte formativo tante volte magari ci si distanze anche dal percorso formativo però quando si arriva a progettare si arriva a farlo perché si vuole rispondere soprattutto un proprio bisogno poi di solito noi invitiamo anche i nostri progettisti a fare una bella costruzione di quello che è il contesto perché giustamente un progetto deve rispondere anche al contesto in cui ricade però tutto parte da un bisogno personale quindi volevo capire è anche la tua formazione che intreccio c'è con il con la progettazione poi che hai fatto culturale sì sicuramente è successo questo nel senso che avevo un bisogno un'urgenza di poter realizzare o di poter costruire da un lato qualcosa di mio io avevo proprio bisogno di fare qualcosa di fisico diciamo avevo fatto scuole più teoriche quindi avevo fatto prima il liceo scientifico poi una scuola di lingua internazionale poi sono andata in accademia ho detto bene adesso vado faccio scenografia quindi inizio a costruire andare in giro per i teatri non fu così ma anche lì altra teoria e ho iniziato invece e ho iniziato invece ad interfacciarmi con il mondo dell'arte contemporanea questo è stato abbastanza fondamentale per il mio percorso e soprattutto un progetto tra l'altro in questi giorni ho recuperato dei cataloghi degli scatoloni di catalogo che avevo archiviato ho ricontattato tutti gli altri 15 ragazzi che con me avevano fatto questo progetto che all'epoca fu uno dei progetti satelliti della mostra internazionale della Biennale curata da Bonami e quindi questo progetto che avevamo realizzato a Porto Marghera che si chiama riserva artificiale è veramente un progetto che è riuscito in qualche modo a rispondere a tutte quelle esigenze un po' che avevo quindi riuscire ad analizzare gli spazi luoghi mettere insieme delle persone creare dei percorsi all'interno di questo spazio e far poi fruire questo spazio rivisitato e riimmaginato da degli spettatori questa metodologia poi mi ha sempre accompagnato quindi ad un certo momento mi sono resa conto la mia frustrazione era non essere in grado realmente di fare qualcosa in realtà nemmeno oggi io sono veramente in grado di fare qualcosa ma la metodologia di approccio che utilizzo nell'affrontare i progetti o ad affrontare anche i problemi o le dinamiche che incontro diciamo quella più o meno è sempre uguale quindi è una metodologia prettamente artistica l'analisi di ricerca che poi riesce a mettere insieme le persone gli spazi e questo dialogo di solito insomma porta a dei buoni risultati insomma il festival mi sembra abbastanza buono infatti quando anche quando si parla appunto di progettazioni innovative spesso è quando diversi ambiti si intrecciano quando si portano delle metodologie di ricerca come nel tuo caso quella artistica all'interno di processi che poi diventano veramente di processi di innovazione sociale nel caso del festival vostro immagino infatti volevo tornare al festival per parlare di questo discorso appunto della come dire della rete di collaborazione che avete che ogni anno diventa da una parte sempre più grande e dall'altra avete sempre di più non soltanto giovani ma anche persone del paese che che si sentono parte della comunità del festival sì assolutamente nel senso che il festival non essendo arrivato come un meteorite diciamo il problema dei grandi eventi a volte così no? problema poi insomma chi se lo pone nel senso che non è che sia un problema però per questo tipo di progetti il problema è quando arrivi magari ad avere già un progetto molto grande molto articolato che arriva in un luogo non ne tiene conto più di tanto e si impone come anche dimensione ok invece mi sono trovata a lavorare in un luogo che realmente non conoscevo ok no no ci sei telefonato quindi era un luogo che in teoria io dovevo conoscere perché era diciamo tra virgolette casa mia però in realtà non conoscevo per niente io in certi vicoletti forse non c'ero neanche mai entrata prima ehm perché io abitavo leggermente fuori dal paese quindi per me è stata comunque una scoperta quindi riuscire a dialogare con questi spazi averne il massimo rispetto e poi lentamente costruire un evento più che un evento un progetto che avesse ovviamente un obiettivo a lunga distanza e anche a lunga progettualità diciamo quindi con un con un'idea ben precisa di come dove voleva andare anche se non aveva chiaro tutto il disegno era abbastanza fondamentale diciamo e quindi riuscire a dialogare con le persone che vivono quegli spazi che vi che 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 li abitano era fondamentale ovviamente all'inizio comunque non è che proprio sì eh nonostante fossimo piccoli nonostante avessimo fatto delle cose veramente eh su scala diciamo eh minima eh sì non è che tutti ci avessero aperto le braccia le porte è stato anche lì un processo abbastanza abbastanza lungo ma ma che ha dato i suoi risultati nel senso che attualmente il festival comunque è eh la festa del paese no quindi la gente lo aspetta come la festa paesana ehm che arriva d'estate e quindi da questo punto di vista è accettato e mh è diventato parte fondamentale del metabolismo del del diciamo del del paese ehm per quanto riguarda invece tutti gli altri giovani che si avvicinano a noi ehm chiamiamoli come due o tre tipi diversi no abbiamo tre livelli abbiamo quelli che vengono a lavorare con noi che poi stanno con noi che poi vanno via che poi magari tornano ehm e questo secondo me anche qui è legato proprio al mio al mio bisogno ci sono dei paletti che io metto ogni tanto io sono molto flessibile pro e contro di fatti i miei soprattutto gli altri direttori con me o gli altri collaboratori tanto amano questo mio aspetto quanto lo odiano nel senso che la flessibilità non è proprio amica dell'organizzazione diciamo però ci sono dei paletti che io metto sempre eh soprattutto ad esempio per dare la possibilità a tutti i giovani che vengono a lavorare da noi di non avere spese che è una cosa fondamentale quando io da giovane andavo in giro io andavo ovunque fatemi lavorare fatemi fare quello che volete però ovviamente devo cercare di mh essere a costo zero ok quindi cercando di attivare quindi delle dinamiche di questo tipo aiutare le persone che magari vengono da noi trovare ehm dei bandi o delle collaborazioni tipo come servizio civile sono delle modalità per farli avvicinare a noi dall'altro lato mh è apprezzato dai giovani perché è un luogo dove tu puoi fare delle cose e puoi sbagliare ehm nella nostra mentalità sbagliare non è una cosa bella sbagliare è uno sbaglio invece se non sbagli non impari non cresci certo e quindi partendo mh da questo presupposto eh abbiamo sempre voluto eh ragazzi che potessero venire lavorare con noi mettersi alla prova e aumentare le loro conoscenze fare pratica e poi ovviamente magari andare altrove ovviamente poter lavorare e svilupparsi quindi per questo motivo forse il Lago Film Fest è comunque apprezzato dai giovani spero nel senso che anch'io comunque all'epoca ho fatto un festival perché non sapevo fare niente quindi ho provato a farlo io ok quindi un giovane che viene ma io lo chiamo giovane ma anch'io sono ancora giovane quindi può essere veramente chiunque ehm chi viene nel nostro gruppo e presenta un progetto lo può fare ovviamente se è eh sostenibile se noi riusciamo ovviamente a dare tutti gli strumenti ehm mi dicono che è molto apprezzato grazie Carlotta Carlotta è stata la nostra fotografa lo è ancora diciamo la fotografa del festival eh insomma anche lei si è fatta un bel po' di anni anche se lei forse qualche competenza ce l'aveva già però ehm la la disponibilità c'è la la voglia di poter aiutare tutti e di di poter far fare tutti i progetti a tutti ehm è molto è molto insomma alla base di questa cosa poi ovviamente ci sono i giovani che vengono ehm ma anche non solo giovani dai vengono a vedere i festival ovviamente perché sanno che c'è qualcosa di diverso che magari ehm qui vicino non si trova ma non solo vicino anche altrove è un tipo di esperienza che ovviamente essendo strettamente collegata al luogo in cui viene fatta è unica certo perché non ci sono altri luoghi così ci sono altri luoghi ma non come questo non con queste persone non con questa esperienza quindi sì eh e poi ci sono gli artisti diciamo ci sono questi tre tre mondi che qui si incontrano e hanno e hanno uno spazio per poter dialogare e lavorare insieme avere un un luogo veramente eh dedicato all'esperienza non solo magari da un punto di vista passivo quindi di visitare un luogo e vivere delle cose anche se magari si cerca sempre di avere un'interazione però in questo caso specifico è proprio legato al fatto che io incontro un giornalista incontro un un filmmaker incontro un musicista insieme diciamo decidiamo di fare un progetto e poi magari lo portiamo al festival l'anno prossimo questo è un grandissimo una specie di incubatore una specie di grande luogo di incontro insomma sì sì è un progetto che comunque è sempre attivo tutto l'anno perché eh cresce durante l'anno e dato anche comunque da esperienze e da conoscenze che vengono messi a valore essendo basato ovviamente sulle sulle connessioni non ha neanche bisogno di un luogo fisico bisogno del luogo fisico poi ovviamente nella narrazione nell'esposizione però ehm innescando tutte queste dinamiche ovviamente eh poi queste cose possono svilupparsi in altri luoghi possono diventare altro crescere quindi diciamo che è un po' un un acceleratore anche se si vuole ok e ti chiedo una cosa eh legata a quanti abitanti ci sono circa a Revine Lago e quante persone arrivano nel momento del festival cioè quanto aumenta anche il giro di persone che ci sono ma allora guarda all'incirca in tutte le frazioni a Revine Lago ci sono duemila abitanti duemila e cento mi sembra penso nel borgo storico siano sui cinquecento dove noi facciamo il festival in nove giorni di festival arriviamo ad avere un quindicimila visitatori ecco quindi aumenta però la cosa bella è la cosa che noi abbiamo sempre cercato di mantenere è che tu non hai mai la percezione cioè non hai mai la percezione che ci sia così tanta gente che ci sia troppa gente che tu debba non so fare i sensi unici per poter andare da un posto all'altro è molto liquido è molto diffuso distribuito sia da un punto di vista temporale che da un punto di vista proprio territoriale quindi hai diversi diversi luoghi diversi diversi momenti in cui puoi venire e fare delle attività ok e nel tuo nella tua esperienza di progettista sia all'interno del festival poi immagino magari anche in altre esperienze anzi se vuoi anche magari dirci se ne hai fatte anche altre che secondo te sono interessanti da raccontarci ci sono state non so delle difficoltà che però ti hanno dato la possibilità attraverso delle strategie di proprio di di oltrepassare quelle difficoltà anzi magari quelle difficoltà sono state anche costruttive per poter ripensare delle cose ma quando fai una cosa per la prima volta è una difficoltà continua e quindi qualsiasi cosa poi qualsiasi escamotage qualsiasi soluzione tu riesci a trovare quella ti insegna come puoi affrontare i prossimi problemi però tendenzialmente i problemi o le difficoltà ci sono quando non sai come gestirle quindi quando sono delle cose nuove quando non sai come continuare come crescere come cambiare la nostra forza anche un po' questa il fatto di comunque mettersi sempre in discussione e trovare sempre nuove strade e imparare si e imparare da 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 poi ovvio che noi italiani poi siamo così bravi con la creatività sempre comunque che quindi questo effettivamente ci dà una capacità legata alla risoluzione dei problemi legata anche alla lettura del problema no forse questo è una delle cose che ho imparato a fare ogni volta che c'è un problema ogni volta che c'è qualcosa di difficile c'è sempre un altro modo di leggerlo e quindi cercare di riuscire a trovare sempre nuovi punti di vista per riuscire sempre ad arrivare all'obiettivo cioè bisogna avere proprio a mio avviso un'idea molto chiara del perché si fanno le cose come le si vuole fare poi un escamotaggio in qualche modo lo si trova sempre poi noi parliamo sempre di produzioni soprattutto legate alla gofinfest che comunque riescono a reinventarsi anche da un punto di vista economico in modo molto geniale diciamo è un festival che dovrebbe costare almeno tre volte tanto quello che costa insomma e invece appunto riuscite a fare un prodotto di alta qualità e appunto attraverso strategie i contenimenti dei costi e volevo chiederti se ci sono altre esperienze sia italiane sia magari europee con le quali magari vi confrontate come festival oppure magari come dimensione che sono magari sono magari lontane dai grandi centri che tu apprezzi come operazioni ce ne sono ce ne sono diverse magari queste esperienze hanno anche come si può dire delle caratteristiche che possono essere accomunate alla nostra ma ognuna per un aspetto no ad esempio mi mi viene in mente ardash image che è un festival che è in ardesia a lussassi in un paesino su un alto piano dove lì arrivano centinaia di migliaia di persone in questo paesino che è più piccolo di lago più si fa più fatica ad arrivarci è come fosse in cimarcansivi o alto piano d'asiale cioè non ci sono neanche i mezzi pubblici per arrivarci ecco quindi quello sicuramente un esempio molto interessante anche per soprattutto da un punto di vista progettuale questi tipi di progetti secondo me sono strettamente legati diciamo alla progettazione culturale sociale di un territorio non possono prescindere dal dialogo ovviamente con le amministrazioni pubbliche quindi l'ussassi è un esempio di una pianificazione culturale costruita e pianificata anche a tavolino con l'amministrazione che è l'amministrazione regionale nazionale e quindi lì ovviamente solamente grazie all'intervento dello stato come si può dire stato francese sono riusciti a creare un luogo che è diventato la mecca del cinema documentario europeo mondiale quindi sì questo forse potrebbe essere un buon esempio se no ci sono altri altri esempi di altri festival poi io mi rifaccio anche molto a per esempio alle strutture di centri culturali soprattutto del nord europa quindi di luoghi dove le persone si incontrano e sono luoghi di aggregazione attivi dove le persone si incontrano possono fare delle cose come se fossero in un certo senso le nuove piazze quello che secondo me in un oggigiorno nei nostri paesi soprattutto manca magari nelle città ora che i centri sono diventati tutti pedonali così ma nei paesini le piazze per esempio anche il nostro la piazza attualmente è tagliata da da una strada e quindi non c'è più la piazza come luogo di incontro dove i bambini possono andare a giocare gli anziani si siedono sulla panchina a chiacchierare non esiste più quel luogo di incontro e quindi per me questo aspetto sociale veramente molto importante solamente in quei tipi di centri culturali mi viene a mente se anche a Parigi o ovviamente altre dimensioni quindi imparagonabile con quello che facciamo noi e quello che stiamo portando avanti anche come piattaforma Lago sì però sono questi due tipi quindi di festival più legati ovviamente all'aspetto più sociale anche di ricerca cinematografica quindi con delle programmazioni molto particolari e anche molto liberi e indipendenti e invece esempi di progettazione sociale e culturale che hanno un ampio respiro insomma prima di andare in conclusione volevo chiederti in questo periodo che cosa avete fatto come Lago Film Fest ho visto che siete stati attivi magari se ci racconti questa esperienza radio beh l'esperienza radio è stata bellissima e qua dovrei chiamare in causa Carlo Migotto che ho visto che comunque si è collegato che è l'altro direttore del festival insieme anche a Morena e ad Emiliano noi salutiamo lui ha una grandissima passione per la radio lui poi ha avuto un passato come anche cabarettista, come attore e quindi è un mondo che gli piace moltissimo quindi ha sfruttato questo momento un po' di pausa per prendere in mano una delle sue passioni diciamo che va nel cassetto e quindi ha fatto questa programmazione pazzesca a mio avviso e anzi un po' mi dispiace l'abbia interrotta però effettivamente capisco che dopo un ton di settimane poi lui ovviamente non è che si fermasse al semplice ascolto diciamo semplice presentazione dei corti o così ma invece ogni mattina c'erano degli ospiti nuovi quindi si è andato a ripescare un sacco di film nell'archivio del festival perché ovviamente dovevano essere anche liberi quindi avere dei link youtube facili da distribuire diciamo da far vedere alle persone a casa magari che fossero anche facili ovviamente per un pubblico italiano e eterogeneo, generalista e poi è andato a ricontattare amici da Berlino, da Roma vicini persone che in qualche modo rappresentano il Lago Film Fest quindi tutte queste connessioni di cui abbiamo appena parlato tutto questo bagaglio che in realtà costruisce il festival e lo arricchisce di anno in anno Bene, grazie e l'ultima domanda che ti faccio se c'è un libro, ma penso nel tuo caso forse un film un'opera, non lo so, fai tu che ti ha particolarmente magari ispirato nel tuo lavoro che magari la tieni in mente non lo so, se ce l'hai Devo anche ammettere che tu mi avevi preparato su questa domanda ma io mi sono completamente dimenticata e quindi adesso mi cogli veramente impreparata quindi fammi pensare non so perché ma mi viene in mente Blade Runner in questo momento e non lo so perché forse perché è un momento un po' così fuori dal normale che un po' mi sembra di essere lì in realtà no cioè ci sono dei libri ovviamente che sono stati importanti per me e anche dei film che fanno parte anche della mia evoluzione quindi che ne so Colazione da Tiffany o anche per esempio Top Gun tutti si vergognano però io alle medie avevo tre DVD no, che DVD tre VHS erano Top Gun Pretty Woman e Colazione da Tiffany questi tre giravano cioè dicono adesso i bambini davanti alla TV io stavo pomeriggi interi a guardare questi film n volte quindi quelli comunque sono rimasti dentro però poi mi ricordo forse quelli più belli ovviamente di Buñuel che è uno delle mie basi forse quello che mi è rimasto più impresso però poi ogni periodo è suo quindi c'è Leon ma poi mi piacciono tantissimo anche i cartoni animati poi mi ricordo quando con i miei nipoti guardavamo Monster & Co cioè io poi quando inizio a ridere pure loro si vergognano e mi piace tantissimo libri la versione di Barney forse è il mio preferito però ho letto dei fumetti molto belli ultimamente sono molto contenta mi piacciono me li hanno regalati per il mio compleanno però effettivamente sono una persona mi hanno definito una persona di di pancia mettiamola così di terra anche nel senso che io sono una persona che si basa veramente sull'esperienza quindi tutta la mia conoscenza è basata su quello sul fatto di fare le cose di condividerle con gli altri possibilmente fisicamente anche se per fortuna abbiamo questi strumenti adesso che ci aiutano a stare un po' più vicini a un l'altro però così sì magari speriamo tagliamo questa cosa che guardo Top Gun perché sennò dopo ovviamente i vari professionisti del mondo del cinema mi tolgono così no poi mi piace anche Leo Carax no? altre cose così no? va bene una delle persone un profilo che ci sta seguendo chiede che fumetti Alpo è Alpo adesso vabbè adesso vabbè non guardate il casino io e poi mi sembra una terribile chi mi conosce lo sa perché io non mi ricordo i titoli però i miei due ultimi libri che sono veramente bellissimi e sono molto contenta di farvi vedere sono questi due Sniff bellissima grafica che è di Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico e poi un altro aspetta perché in realtà io posso anche fare così ah vedi che sono tecnologica un po' e poi c'è questo meraviglioso bellissimo gli amori sospesi e sono veramente due libri che sono arrivati per il mio compleanno e mi piacciono molto ci hai incuriosito oggi ci hai dato anche un sacco di spunti non soltanto dal punto di vista dei progettisti ma anche spunti appunto per approfondire per ampliare anche un po' anche le nostre vedute perché sicuramente l'arte è uno degli strumenti principali proprio per arricchire e per avere degli sguardi altri e differenti allora io ti ringrazio è stata veramente una bellissima chiacchierata e magari ricordiamo quando è il festival le date di quest'anno eh bella domanda allora in teoria dovrebbe essere dal 24 luglio al primo di agosto però diciamo che stiamo aspettando delle informazioni dai piani alti per capire in realtà cosa si potrà fare e quando sicuramente sicuramente se non magari fine luglio i primi di agosto ok e quindi l'idea c'è Carlo che dice ovviamente bella domanda che è l'altro direttore del festival l'idea è di fare comunque qualcosa di continuare ad esserci visto che abbiamo dato questa gli abbiamo spiegato un po' no? questa grande importanza di questo legame che noi abbiamo con il territorio quindi non solo magari il paese ma anche chi vive attorno quindi ha una grandissima importanza per noi che lo facciamo che lo sogniamo da un anno all'altro quindi sicuramente cercheremo di fare qualcosa cercheremo di esserci magari forse solo con delle proiezioni all'aperto non nei vicoletti magari perché sono un po' troppo stretti quindi non riusciamo magari a pensare a questa cosa legata alle misure alle distanze di sicurezza però abbiamo la fortuna di avere dei prati grandissimi abbiamo il parco del livelletto che è immenso quindi magari fare una proiezione grande che spacca e tutte le persone lì magari farlo durare quindi qualche giorno in più in modo tale da dare la possibilità alle persone di venire visto che magari avremo delle entrate contingentate comunque ci saremo noi stiamo pensando e stiamo progettando per poterci essere ecco ottimo benissimo grazie allora terremo d'occhio i vostri social e il sito in modo tale da vedere poi le date insomma quelle precise e poi sicuramente verremo perché insomma è un'esperienza assolutamente io ti ringrazio e ricordo a tutti quelli che ci ascoltano che il bando invece generazioni nuove dimensioni di generazione è aperto fino all'11 di maggio e tutte le informazioni il bando eccetera eccetera sono online su generazioni.online appunto il nostro sito e poi siamo a disposizione per accompagnare nella progettazione in questi ultimi giorni ecco la prossima settimana saremo sempre in diretta su facebook con altri ospiti e il mercoledì sempre alle 17 il giovedì sempre invece alle 17.30 la prossima settimana saremo con un ospite dalla Lombardia avremo mare culturale urbano quindi insomma se ci seguite qui la prossima settimana saremo qui con loro e grazie ancora Viviana e ci vediamo presto e buon tutto ciao grazie a te grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito perché poi mi distraevo a leggere tutti i loro commentini quindi un bacio a tutti ciao ciao ciao